Abbiamo qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia per cui io vi chiederei di accomodarvi e che così cominciamo. Nel febbraio o nel marzo del 1994, non ricordo esattamente quale di quei due mesi, stavo iniziando insieme all'ingegnere Chiappini che oggi è presente tra i relatori, stavo iniziando, diceva assieme a lui, una docenza sulla nuova legge statale sui lavori pubblici, la cosiddetta legge Merloni, quando qualche ora prima dell'inizio del corso giunse notizia che il governo ne aveva sospeso l'entrata in vigore. Si avviava da allora un processo che potremmo chiamare di bulimia legislativa nel settore dei lavori pubblici, ma devo ammettere perché anche gli altri settori non ne sono esenti. Processo, dicevo, che non ha ancora avuto termine e probabilmente non ce l'avrà mai. A quell'epoca, dopo il 1994, dopo quella legge Merloni, prima sospesa e poi ripresa, seguì nel volgere di pochi anni, prima la Merloni-Bis, poi la Merloni-Ter, poi la Merloni-Quater e leggi che culminarono poi nel nuovo regolamento sui lavori pubblici, il DPR 554 del 1999, che sostituì il ben noto agli anziani regolamento 350 del 1895, che era rimasto vigente per ben 104 anni, una durata che noi oggi ci sogniamo. Alle varie Merloni, 1, 2, 3, 4, si sostituì nel 2006 il primo codice dei contratti, il cui regolamento di applicazione uscì nel 2010, spedendo in pensione dopo solo 11 anni quello del 1999 che ho appena citato. Ma anche questo non durò molto, perché nel 2016 uscì il secondo codice dei contratti, peraltro pesantemente rifatto un solo anno dopo, nel 2017. Il regolamento del 2010, il regolamento sui lavori pubblici, fu cancellato e sostituito con la cosiddetta soft law, cioè da un insieme di disposizioni tematiche emanate dall'ANAC, che rivelarono ben presto però la loro scarsa organizzità, tant'è che ora si tornerà forse, adesso sentiremo oggi, a un unico regolamento, quindi con una sua propria organicità. Siamo ora alla terza versione del codice, nel giro di 15-16 anni, alla terza versione del codice dei contratti, che non è ancora in vigore, peraltro, perché tuttora all'esame delle competenti commissioni consigliari, parlamentari, non consigliari. Ma per la conoscenza del quale, della nuova norma, è opportuno prepararsi sin d'ora. Noi oggi qui non abbiamo alcuna velleità di illustrare esaustivamente il nuovo codice, abbiamo tre ore a disposizione e nessuno, penso, sopporterebbe un'illustrazione dettagliata. Ma intendiamo solo mettere in luce alcuni aspetti più positivi, più critici, vedremo un po' cosa diranno i nostri relatori, delle nuove disposizioni che regoleranno in futuro la programmazione e la realizzazione dei contratti pubblici. Ed è quindi con molto calore che ringrazio tutti i relatori che hanno dato oggi la loro disponibilità a illustrare per noi questi spot sulle nuove disposizioni di legge, per quanto di rispettivo interesse poi li presenterò uno a uno naturalmente e quindi vedremo quali sono i loro specifici campi di azione. Mi si consenta un ringraziamento particolare a Sandro Catta, attuale consigliere CNI, e Michele Lapenna, che è stato consigliere CNI entrambi nel settore dei lavori pubblici. Michele Lapenna, che peraltro adesso svolge lo stesso ruolo nell'ambito della rete delle professioni tecniche a livello nazionale. La rete delle professioni, per chi non lo sa, è un raggruppamento che mette insieme Consiglio nazionale ingegneri, Consiglio architetti, geometri e geologi. L'inigrazio particolarmente perché vengono da lontano, insomma, dalla Sandro Catta della Sardegna e Michele Lapenna dalla Basilicata e quindi hanno fatto parecchia strada per venirci a esporre il loro punto di vista. Ringrazio anche il consigliere del Consiglio nazionale, Luca Scappini, al quale dopo l'intervento di Sandro Boato darò la parola, e il Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Paolo Gasparetto, che sono presenti in sala. Ringrazio ovviamente il Collegio Ingegneri di Venezia e con Sandro Boato che lo presiede. Noi facciamo sempre le cose assieme a seconda dei tagli e dei punti di vista che diamo ai diversi argomenti. Ringrazio Girola Mostrano che è qui in sala, che è il coordinatore della nostra Commissione dei Lavori Pubblici dell'Ordine Ingegneri di Venezia. L'Ordine di Venezia ha 24 commissioni che spaziano nei diversi argomenti che sono il vero motore dell'Ordine, perché propongono, organizzano i temi, valutano i temi che sono di interesse nei diversi settori degli ingegneri, ma poi anche dei professionisti in generale, perché il tema di oggi riguarda numerose professioni. Ringrazio ovviamente i colleghi e gli amici degli altri Ordini che sono presenti qui oggi e ringrazio naturalmente tutti voi per la vostra presenza con la quale testimoniate il successo di questa iniziativa. Grazie veramente a tutti. Passo la parola adesso a Sandro Boato che è, come dicevo, il Presidente del Collegio Ingegneri di Venezia. Grazie, grazie Mariano e buongiorno a tutti, benvenuti, vedo che siete numerosi, quindi vuol dire che l'interesse per l'argomento c'è e non vedo come potrebbe essere il contrario, perché come diceva Mariano, insomma, la materia è molto dibattuta da molti anni. Cosa ti faccio come collegio? Beh, diciamo che tra i compiti del collegio vi è anche quello di favorire l'aggiornamento professionale dei nostri iscritti e per questo che abbiamo aderito subito con di buon grado all'iniziativa dell'Ordine, con il quale peraltro appunto collaboriamo, direi, costantemente su tantissime cose per l'organizzazione di questo convegno. Sì, come diceva Mariano, l'annovativo sui lavori pubblici ha avuto un'evoluzione, se vogliamo, anche un po' convulsa. Devo dire che tutto era andato bene fino ai primissimi anni 90, cioè c'era una legislazione molto stabile e noi che all'epoca già lavoravamo da tempo, perché appunto l'età ormai c'è e quindi ricordiamo quei tempi durante i quali già si lavorava da un po' ed era tutto molto stabile, molto tranquillo. Dopodiché c'è stata appunto questa rivoluzione continua, diciamo sulla spinta, se ricordiamo, un po' di quello che era successo in quegli anni, di Tangentopoli, per cui il legislatore si è sentito, diciamo, chiamato in causa e ha dovuto intervenire, forse non tanto per dare maggiore organicità al tema dei lavori pubblici, quanto per cercare di cercare di limitare il fenomeno della corruzione che in quegli anni era scoppiato in modo molto evidente e se ricordiamo c'è stata insomma una botta importante su tutta la nostra società con tutto quello che ne è conseguito, insomma conseguenze importanti, forse ne risentiamo ancora oggi. Quindi quello di cui parliamo oggi non è che l'ultimo atto di questo lungo percorso normativo che si è seguito e non sappiamo se sarà l'ultimo. Ci pare comunque giusto discuterne prima ancora della sua entrata in vigore per dar modo ai nostri colleghi di affrontare il nuovo corpo normativo con qualche certezza in più, speriamo, e con qualche dubbio in meno. Però al di là di queste considerazioni un po' polemiche sull'operato dei nostri legislatori, non vi è dubbio che nel momento attuale il tema dei lavori pubblici è alla ribalta. Con i grandi investimenti finanziati dal PNRR è necessario che le procedure per rispedire gli appalti e realizzare i lavori siano il più possibili certe e veloci, sia per rispettare i tempi stabiliti per l'attuazione del programma, sia per dare certezza alle amministrazioni, alle imprese e ai professionisti. Perché l'obiettivo comune che dobbiamo avere, credo, tutti quanti noi è quello di favorire lo sviluppo del nostro Paese e della nostra società, cosa che passa anche attraverso un corpo normativo solido, semplice ed efficace sul tema dei lavori pubblici. Per cui lascio sicuramente la parola ai relatori che avranno certamente molte cose più interessanti da dire. Sono certo che le loro relazioni sapranno fornire appunto qualche elemento in più per affrontare parte di tutti noi con maggiore contezza il nostro lavoro. Ringrazio tutti i relatori e vi auguro un buon lavoro.